Ecco qua la Barbara. Allora Barbara, come stai? Ma che bene, ti vedo benissimo, ti diverti con noi? Sì, tantissimo, ci mancheremo. Ah che bene. Basta, non dici altro. No, non devo dire, Stefano, una magia. Una magia? Una magia, Stefano. Una magia, vai, una magia. Allora, come sarà quest'anno? Eccezionale. E vedi cose belle, positive per te? Sì, e anche per te, Stefano. Anche per me? Sì. E per la Manuela? Tantissimo, soldi appalate. Ok, un sorriso, ciao.